Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come gestire e poter gestire tanti carboidrati. Ora, piccola premessa, non voglio che passi il messaggio che gestire tanti carbo è uno scopo fine a se stesso, cioè devo gestire tanti carbo perché voglio mangiare tanto, perché fa figo mangiare tanto, non è così. Noi abbiamo un problema specifico nel caso degli atleti di bodybuilding, ossia immaginiamo questi tre compartimenti, che sono i carboidrati di cui io ho bisogno, quindi la mia richiesta, che non è il dispendio, attenzione, la richiesta glucidica come atleta, che arrivano ad essere tanti, perché più la talità di dispendio fa del cardio per mantenere un certo tipo di salute cardiovascolare, ha masse muscolari, si allena in un certo modo, ovviamente la richiesta energetica sale, quindi questa è la mia richiesta di carboidrati che ho. Da un altro punto di vista, collegato ma separato ognuno del tutto, è la capacità pancreatica, cioè la capacità del mio corpo di produrre abbastanza insulina per gestire i carboidrati che vado a mangiare, quindi regolare la glicemia, ma anche avere una corretta produzione e modulazione degli ormoni controinsulari, avere una corretta recettività e capacità enzimatica delle glicogenosintasi, quindi avere tutto un quadro di gestione glucidica che è appropriato, che è separato e scollegato dalla richiesta glucidica che io ho, della richiesta dei carboidrati. E da un'altra parte ancora, ma oggi non la tratteremo, è logicamente il discorso gastrointestinale, quindi se il mio apparato gastrointestinale riesce a assorbire questi carboidrati, perché quando inizia ad arrivare quote molto molto importanti non è detto che io li riesca a assorbire, quindi il fatto di gestire tanti carboidrati non è un ti insegno come mangiare carboidrati e non ingrassare, no, posto che tu hai una certa richiesta glucidica e il tuo corpo non è in grado di gestirla perché ti ritrovi a aver bisogno di tante calorie però, di tanti carboidrati, però i carboidrati non riescono ad entrare efficacemente nel muscolo e quindi tendi a stare sempre in iperglicemia, avere problemi di iperglicemia e sostanzialmente svacchi, quindi quello che vediamo da un punto di vista fenomenologico è la persona che mangia carboidrati e mangiando tot carboidrati inizia a tirare tanta acqua, quindi a gonfiarsi tanto, quindi avrei bisogno di salire, di spingere, però appena spingo, appena butto i carboidrati non li riesco a gestire, non li so gestire, ma questa è una mia necessità, quindi non lo faccio fino a se stesso di nuovo. Allora come ci possiamo comportare? Perché il fatto che io abbia bisogno di questi carboidrati, perché sto facendo un certo tipo di lavoro fisico, che è sovrafisiologico da un certo punto di vista, cioè è un qualcosa di non strettamente necessario, perché arrivare a certi livelli di effort, di spinta, eccetera, a certi livelli di masse muscolare, quindi forzare un certo adattamento muscolare è un qualcosa che non è contro natura, per l'amore del cielo, però sicuramente è una forzatura. E quindi per alcuni soggetti, da un punto di vista sia ormonale che recettoriale, potrebbe esserci un quadro che non è sfavorevole, che non è favorevole, quindi è sfavorevole. Quindi in questo caso come faccio a relazionarmi e come faccio a gestirmi? Ok, ci sono diverse cose che devo sapere, quindi oggi la faremo un pochetto lunga, per cui non entro troppo nello specifico, ma se vi interessano dei video, ci sono, a parte dei reel molto carini su Instagram, quindi assicuratevi di seguirmi su Instagram, ludovico.lm, e di seguire qua il canale, di mettere il follow su YouTube, perché usciranno dei video più specifici sulla sensibilità insulinica qua su YouTube. Quindi assicuratevi di seguire tutte le pagine, seguirci ovunque, perché facciamo tantissimi contenuti e produciamo tantissimi contenuti in format diversi, specifici per ogni piattaforma, quindi non perdetevi niente. Però la faremo un pochetto lunga, quindi cerchiamo di spiegare quello che è il quadro. Allora, qual è il discorso quando io vado a parlare di gestione dei carboidrati? Il problema principale è un problema che abbiamo sia da un punto di vista ormonale, sia da un punto di vista recettoriale, quindi per cercare di semplificare la questione parliamo di insulina, ossia da una parte, nel momento in cui io vado ad avere un'elevazione della glicemia, quindi carboidrati che entrano in torrente ematico, l'ormone protagonista per gestire questi carboidrati, quindi per riabbassare la glicemia, quindi andare a inserire carboidrati all'interno dei tessuti, è l'insulina. Ora, da una parte il pancreas potrebbe avere delle limitazioni, cioè il nostro pancreas non ha capacità infinita di produrre insulina, cioè ha un certo tipo di capacità che è in parte soggettiva, ma in un soggetto sano è più che sufficiente a far fronte a il quotidiano e tutto il resto, però ha un limite, quindi quando inizio a buttare tanti carboidrati, da una parte il pancreas potrebbe far fatica. Per cercare di far fronte a questa situazione, qual è lo scopo? Il mio pancreas può produrre massimo 100 insulina, da una parte nel bodybuilding si utilizza l'insulina esogena, che è un approccio, però parliamo di bodybuilding natural, parliamo di bodybuilding in cui non si vuole utilizzare l'insulina, quindi mettiamo dalla parte questo quadro. Il mio pancreas ha massimo 10-100, numero a caso, di insulina che può produrre. Se io vado oltre, quello che succede è che butto carboidrati e non c'è abbastanza insulina per spingerli dentro il compartimento intramuscolare. Cosa vado a fare in questo caso? Ora, l'arma migliore che posso avere a disposizione è quella di fare in modo che quest'insulina sia quanto più efficace possibile nel buttare carboidrati, quindi è come avere un esercito spartano, erano soltanto in 300, quello era il limite, però porca vacca gli fumavano a tutti quanti. Più o meno lo stesso, la nostra insulina li devono fumare, in qualche modo deve essere super efficace. L'insulina e l'insulina non può essere più efficace. Cos'è che è efficace? È la sensibilità del tessuto, per questo si parla di sensibilità insulinica, all'azione dell'insulina. Cioè, se il mio tessuto è super sensibile, vuol dire che appena arriva un filo di insulina, subito i Glut4 emergono in membrana e vanno a ciucciare tutto il glucosio, quindi senza entrare nei meandri di come funziona, però sappiamo che appena l'insulina tocca il tessuto, un tessuto super sensibile, allora questo risponde alla grande l'insulina. In questo quadro, logicamente, non mi servirà troppa insulina. E allora la domanda si sposta dal quadro ormonale, perché abbiamo una certa capacità di lavoro pancheratico, al quadro recettoriale. Cioè, cosa posso fare a livello recettoriale dei miei recettori di Glut4? Come faccio, in altre parole, a rendere questo tessuto quanto più sensibile possibile? E qua entriamo nel discorso su come gestire al meglio i carboidrati. Primo punto in assoluto è il timing. Cioè, io, questi carboidrati, quando vado a metterli, dove vado a inserirli, dove vado a piazzarli nel corso della mia giornata, io so che devo arrivare a tot grammi di carboidrati per matchare MyFitnessPal, perché l'applicazione mi dice tot grammi di carbo. Ok, ma io dove li vado a mettere nello specifico? Eh, qua casca l'aseno, perché il punto in cui io vado a inserire un nutriente nel mio organismo determina quello che è il destino metabolico di quel nutriente. Cioè, nello specifico, un carboidrato inserito così in mezzo alla notte o in mezzo al pomodiggio a caso, in un momento, sto qua, sto facendo video, adesso mi vado a mangiare un piatto di pasta, per dire, avrà un destino metabolico. Non è brutto o cattivo, però è un destino specifico. Lo stesso i carboidrati, dopo l'allenamento o prima dell'allenamento o in mezzo alla notte, avranno un altro destino metabolico, perché il quadro in cui si inseriscono, che è un quadro del nostro organismo con delle variazioni acute, quindi il quadro ormonale, il quadro del sistema nervoso autonomo, quindi tutto quello che sta fluttuando, sta succedendo, va a determinare una via, ok, i carboidrati sono arrivati, ok ragazzi, sono arrivati, utilizziamoli in questo modo, schiaffiamoli là, facciamo questo. C'è come un direttore di orchestra nel nostro organismo che deve sapere come utilizzarlo in base al quadro. Un muscolo super sgonfio, che chiama carboidrati, è direttamente una via preferenziale dei carboidrati nel tessuto muscolare. Un muscolo super saturo è una via preferenziale dei carboidrati, più sul tessuto adiposo, o andare in iperglicemia, in situazioni di iperglicemia, o in dispersione di calore. Quindi il destino metabolico dei carboidrati. E il timing in questo è fondamentale, cioè io dove vado ad inserirli. E capirete che il momento migliore, e di questo parliamo spesso, abbiamo parlato spesso, ricordati, seguimi su Instagram, non fare una cosa spollici a voli con il piccolo, seguimi su Instagram. Il momento migliore è il lapiri workout, nutrition e soprattutto l'intra e il post workout. Perché questo? Diciamo che te la butto semplice, il muscolo in sport anaerobici utilizza soprattutto carboidrati. Quindi gli vai dare carboidrati nel momento in cui servono. Prima, ma soprattutto durante, con l'utilizzo delle ciclotestrine, o comunque un carboidrato liquido ad alto peso molecolare, quindi facile da assorbire, e post workout. Ora, questa è la versione super semplice, è la versione più intuitiva. È logico che se un muscolo ha bisogno di qualcosa, io gli fornisco il nutriente nel momento in cui ce n'è più bisogno, quel nutriente verrà gestito meglio. E è effettivamente così, perché il nostro organismo è attrezzato in maniera efficacissima per far fronte a qualsiasi situazione. E è super attrezzato in questo caso perché? Perché succede una cosa molto bella. Ossia, quando ci alleniamo in maniera molto intensa, il tessuto muscolare automaticamente fa traslocare quelli che sono i recettori in membrana. Cioè ha un'azione cosiddetta insulino-mimetica. Cioè di per sé, senza necessità che ci sia insulina, di per sé, il tessuto muscolare porta a questi recettori. Quindi si prepara ad accogliere. Certo, lui sta pensando cavolo, a me serve perché sto consumando glicogeno muscolare, quindi mi serve ricaricare. Quindi io da solo non c'ho bisogno che arrivi a insulina. Non ti preoccupare insulina, non arrivare anche perché c'è un ambiente pieno di catecolamine, di ormoni controinsulari. Tu non ti scomodare, non è il tuo momento perché stiamo in una situazione del sistema nervoso orto simpatico, fight or fly. L'insulina è un ormone anabolico, è come il momento in cui metti roba in cucina, in cui inizia a prendere, ad accaparrare, a crescere, a costruire. Invece qua stiamo distruggendo, stiamo attivandoci, stiamo muovendo. Siamo in una situazione fortemente catabolica, quindi non ti preoccupare insulina, non ti scomodare. Ci penso io. Allora, questi recettori arrivano nella membrana, quindi membrana, nel mio cita, pronti a ciucciarsi il glucosio, quindi fanno quello che fa l'insulina e quindi già questo effetto va. Quindi questi carboidrati che io vado a dare intra e post workout, già quelli vanno da soli, non c'è bisogno di insulina. E allora il tessuto si manterrà più sensibile. Perché? Perché per schiaffare tutti questi carboidrati, dal momento che già una parte se ne vanno, mi servirà molta meno insulina. Quindi la glicemia non si alza nemmeno troppo, il pancreas produce poca insulina. E cos'è che fa perdere sensibilità insulina al tessuto? È il fatto di essere esposto a tanta insulina. Quindi una situazione in cui mangio tanti carbo e una situazione in cui l'insulina è sempre elevata, è una situazione che mi fa perdere sensibilità insulina. Quindi se io vado a mettere i carbo in un momento in cui non serve così tanta insulina, a parità di carboidrati, allora il tessuto si manterrà sempre sensibile. Quindi i carbo vanno, ne mancano un po', arriva l'insulina ma il tessuto è pronto perché non è arrivata insulina, non l'ha mai sentita, non l'ha mai toccata, tra virgolette ovviamente stiamo un po' romanzando le cose. E quindi subito vai, io sono super sensibile. E vanno quindi a concentrare i carboidrati quando vado ad aumentarli nell'intra e nel post workout. Questa è una finestra. Io addirittura consiglio tra il 50 e il 70% dei carboidrati giornalieri li vado a mettere nella peri workout, quindi tra il pre, tra il post e il post post anche. Quindi non solo il pasto che faccio mezz'oretta dopo aver mangiato, quindi vado in palestra, mezz'oretta mangio, faccio il mio pasto, molto ricco, e dopo un'oretta o un paio d'orette faccio ancora un altro pasto e vado a mangiare qualcos'altro. Poi ovviamente ci sono i tempi di gestione, di assimilazione e tutto il resto, però intanto vado a mettere e il destino metabolico di questi carboidrati sarà ottimizzato. Ok, se abbiamo un'attività cardiovascolare, per esempio facciamo del cardio la sera, allora sicuramente facciamo del cardio e là possiamo mettere anche i carboidrati nella sera, quindi tenerci attivi in generale è qualcosa che facilita la sensibilità insulinica e ci permette di gestire al meglio i carboidrati. Quindi con questa semplice strategia concentro il 50-70% dei carboidrati nella peri workout nutrition, dei miei carboidrati giornalieri a parità di carboidrati, 500 grammi di carbo, io li gestirò già molto meglio. Se la maggior parte li concentro là, vuol dire che mi appannerò meno, vuol dire che andrò ad avere una miglior sensibilità insulinica, vuol dire che sarò più pieno, quindi avrò anche più pompaggio nell'allenamento e quindi riuscirò a gestire molto meglio i carboidrati. Questa è la prima semplice strategia che posso fare. Seconda strategia che è analoga di pari passo è la carb cycling, quindi sempre per gli stessi discorsi, io nella peri workout nutrition non ci butto tanti carbo e poi sto tranquillo e il giorno dopo è un giorno off. Io non ho questo allenamento, quindi perché nei giorni off stare alle stessi grammi di quantità di carboidrati. No, io nei giorni off ricerco una carboidrati, quindi sto più basso di carboidrati e faccio anche un'altra cosa. Aumento in filo grassi. Aumento in filo grassi perché il nostro corpo tra i substrati energetici che utilizza tenderà sempre a utilizzare nel mix, perché lui utilizza sempre un mix bene o male che si sposta logicamente in base all'intensità di allenamento, più sui carbo e sui grassi, però nel mix che va a utilizzare lui utilizza quello che ha. Quindi in un contesto in cui gli diamo un po' più di grassi, lui dice ok perfetto, carbo li lascio là, li lascio all'interno del muscolo, io mi concentro un po' più sui grassi e quindi vado anche a preservare quello che è il glicogeno muscolare, che nel frattempo sto immagazzinando e sto sovracompensando. Quindi un po' più alto di grassi, un po' più basso di carbo ed evito anche una situazione di iperinsulinemia che di nuovo danneggia la sensibilità insulinica del tessuto, quindi in questo modo riesco a mantenere il tessuto quanto più sensibile possibile. Quindi carb cycling, nei giorni off sto molto più basso di carbo e nei giorni on sto più alto di carbo, nei giorni off sto un filo più alto di grassi, nei giorni on sto un filo più basso di grassi. Se ti interessa un video sulla carb cycling, su come impostarla esattamente, scrivimelo qua sotto nei commenti. Sai cosa fare? Scrivimelo qua sotto, ci sono dei re-link in cui ne parlo su Instagram al volo, però se ti interessa scrivimelo qua sotto nei commenti. Quindi queste sono le prime due strategie molto semplici. La terza strategia l'utilizzo di GDA. Cosa sono i GDA? Sono i glucose disposal agent, quindi tutta una serie di integratori di molecole che in maniera diversa tra di loro, quindi non è lo stesso pathway, è in maniera diversa, funziona in maniera diversa ma portano tutti, per dire determinati meccanismi, ad un unico obiettivo, quello di migliorare la sensibilità insulinica e l'utilizzo e la gestione dei carboidrati. Quindi utilizzare queste molecole è molto utile. Io quello che consiglio è sempre uno stack di prodotti perché ogni molecola, la cannella, il cromo, l'acido alfa lipoico, la bromelina, eccetera eccetera, la berberina, sono tutte, tutte molecole, anche la cretina, la cretina è un GDA molto forte, sono tutte molecole che agiscono in maniera molto diversa tra di loro. Per cui se io le metto insieme in uno stack con dosaggi sensati, ottengo uno di quei famosi effetti in cui 2 più 2 non fa 4 ma fa 5, fa 6, fa 7, fa 10, ok? Quindi sempre uno stack per quanto riguarda il GDA. E questo quadro ci va a migliorare. E ora la cosa più bella in tutto questo contesto, applicando queste tre semplici regole, quindi timing, car cycling e utilizzo di GDA, posso spingermi tanto ma succede una cosa bella. ossia, e qua chiudo, perché è la cosa più interessante, l'insulina è un ormone A specifico, cioè lei deve abbassare la glicemia e va tanto sul tessuto muscolare quanto sul tessuto adiposo. Quindi se io vado a mangiare carboidrati in qualsiasi momento, adesso mi faccio un letto di pasta, allora l'insulina girà su tutti i tessuti in maniera indistinta. Ma, come detto, che cosa succede in allenamento? Che questa traslocazione membrana dei recettori che vanno a traslocare, avviene in maniera specifica dove? Nel tessuto muscolare. Quindi ecco che i carboidrati in allenamento avranno una via preferenziale verso il tessuto muscolare a scapito di quell'adiposo. E per molti altri fattori, e magari ci faccio un video, nel post-workout la DNL è parzialmente inibita. Che cos'è la DNL? È la de novo lipogenesis, ossia la creazione di tessuto adiposo a partire di altri substrati. Quindi grassi che vanno diretti nel grasso, ok, ma i carboidrati devono attraversare un processo di DNL, le proteine attraversare un processo di DNL, perché logicamente non stocchiamo carboidrati nel tessuto nervoso. Ecco, questa DNL è parzialmente inibita, quindi tanti carboidrati post-workout tra virgolette hanno molta più difficoltà a essere stoccati in grasso. È molto comune che vengano semplicemente dispersi in calore. Quindi è meraviglioso come quadro. Sono dei piccoli accorgimenti che non vuol dire mangia tutti i carboidrati come vuoi con questi accorgimenti, non è assolutamente così, ma vai ad attuare sin da subito per migliorare e preservare la tua sensibilità insulinica durante la fase di off-season e da là c'è l'ultimo e quarto accorgimento di cui, se ti interessa, ne parlerò in un altro video, che è il mini-cut. Quindi vai ad inserire il mini-cut nel momento in cui questa sensibilità insulinica inevitabilmente, un minimo, si compromette. Allora là si inserisce il mini-cut e si recupera di sensibilità insulinica. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Io spero di avervi dato dei spunti interessanti. Di nuovo, seguiteci su YouTube e seguiteci su tutte le pagine, quindi Instagram e TikTok. Abbiamo dei contenuti molto diversi su ciascuna pagina, quindi assicuratevi di seguirli tutte. A noi ci date una mano veramente, veramente grandiosa. Con questo vi ringraziamo e noi ci vediamo al prossimo video.